Buongiorno a tutti, oggi vi insegnerò come si fa a salvare un file su LibreOffice Eccoci qua Allora avete finito di scrivere, andate su sopra a sinistra su file Trovate file? Bravi! Adesso andate su salva quel nome, schiacciate Vi comparirà questa finestra Escrivete quello che dovete scrivere, il nome del file Poi andate su dove c'è scritto salva quel nome e schiacciate sopra, così E poi vi veniranno una serie di documenti E scegliete per favore Microsoft PowerPoint 97 2000 XP 2003 PP3 Poi fate salva E ecco qui il vostro file sia salvato Vi vedete! Grazie! Grazie! Grazie!